Ma davvero, Hakimi all'Inter? No, Hakimi del Borussia, che in realtà è del Real Madrid, all'Inter per 40 milioni? Ma è una notizia bellissimamente bellissima, ma veramente è un grandissimo esterno destro. Forse è il migliore in circolazione al momento, per quest'anno, considerando anche l'età. E considerando anche le cifre di cui si parla, potrebbe essere un grandissimo colpo, un ottimo colpo. Chiaramente le cifre in questo calciomercato saranno tutte quante un po' a ribasso, secondo me del 20% a causa dell'emergenza che stiamo vivendo. Però comunque è un ottimo colpo, li vale tutti quei 40. Se volete una reaction sulle migliori azioni di Hakimi per conoscerla un po' meglio, fatemelo sapere con mille like e domani la realizzo. Non è ancora ufficiale questa notizia, nel senso che non è fatta, non c'è la firma e tutto quanto. Però il fatto che sia rimbalzata su tutti i media principali, sia di Spagna, sia italiani, in queste ultime ore, mi farebbe pensare che potrebbe essere una cosa affidabile e abbastanza realistica. Se qualcuno mi chiedesse se è fattibile oppure no, direi che può starci. Perché l'Inter assolutamente non può non essere interessato a un giocatore del genere. Il giocatore credo che possa essere interessato a una squadra come l'Inter, perché è una squadra che comunque sta crescendo. Il progetto dell'Inter è quello di tornare a vincere. Almeno nel prossimo anno si partirà per provare a competere per titoli effettivamente, sia in Italia che dal di fuori dell'Italia. Quindi anche magari in Champions League, perché l'Inter è in crescita e calciomercato dopo calciomercato si migliora, modifica la rosa, pulisce quelli che sono giocatori non adatti al nostro livello. E ci miglioriamo sempre, ci potenziamo sempre. Quindi ci sta tutto questo colpo in questa ottica di miglioramento. Abbiamo bisogno delle fasce assolutamente, abbiamo bisogno di giocatori importanti in quei ruoli lì, quindi è abbastanza realistica come scelta. A chi mi credo che possa accettare una squadra come l'Inter, perché nel Real è chiuso ed è un giocatore che vuole giocare, vuole essere al centro del progetto di una qualche squadra. Ed è un giocatore molto offensivo come terzino, quindi sarebbe perfetto come quinto di centrocampo. E ovviamente come ruolo l'Inter glielo garantisce assolutamente, perché l'Inter gioca con questo impianto tattico, con questo modulo e quindi a chi mi calzerebbe proprio a pennello. Qualche settimana fa qualcuno mi chiedeva di Cancelo, io dicevo mi piacerebbe tantissimo Cancelo, però in realtà il giocatore perfetto per questo ruolo sarebbe proprio a chi mi ancor più che Cancelo. Proprio perché a chi mi è un esterno completo, sicuramente molto tecnico, sicuramente a proiezione offensiva, ma molto fisico. È un giocatore che ha una velocità, un'esplosività pazzesche, ma lo vedremo appunto, se arriviamo a 1000 like, domani lo vedremo, perché vedremo magari qualche filmato, ne faremo qualche reaction un po' a delle azioni, quindi lo vedrete molto bene e ve lo analizzo anche finché vediamo le azioni per capire magari qualche dettaglio. Ma è un giocatore molto veloce, ha un'accelerazione enorme, quindi molto esplosivo anche proprio in partenza nel lasciare sui piedi l'avversario, sulle gambe. E poi ha anche una velocità di punta pazzesca, pazzesca. Io mi ricordo un'azione in cui lui era 15 metri dietro a Lucas Moura, è un giocatore importante, veloce comunque, e li ha recuperati. Quindi è un giocatore veramente che come velocità di punta credo sia tra i più veloci forse nel panorama europeo, almeno per il suo ruolo. E quindi è veramente, veramente tanta roba. Ovviamente bravissimo nel dribbling, nell'uno contro uno, predilige andare sul fondo, mettere cross in mezzo, però non disdegna neanche la chiusura dell'azione, quindi andare verso la porta e concludere. Quest'anno dovrebbe essere a quota 5 o 6 gol con una quindicina di assist, più o meno, in Bundesliga. E non è per nulla male giocando nel Borussia. Quindi è un giocatore che veramente partecipa tanto alle azioni, sia in fase di costruzione, sia per quanto riguarda poi appunto gli assist, e appunto come dicevo anche la conclusione stessa dell'azione. Quindi è veramente un giocatore completissimo. Ha iniziato giocando ancora da giovane esterno alto, successivamente si è anche adattato a giocare un po' più indietro anche a 4, ma chiaramente il ruolo a 5 che gli garantisce l'Inter è perfetto. E io credo che lui accetterebbe molto volentieri, non mi stupisce il fatto che, come si dice, vedremo, abbia apprezzato molto l'offerta dell'Inter, perché proprio lo valorizzeremmo tantissimo. Quindi vieni da noi che non te ne pentirai, noi non ci pentiremo assolutamente di te, sono certo, perché è un giocatore che è totale, che è totale, quindi è perfetto. Veramente non ci sono... Non mi viene in mente un giocatore migliore di lui per le sue caratteristiche, per il ruolo che abbiamo da offrirgli. Non me ne vengono in mente altri di migliori. Equiparabili, magari intercambiabili, ma migliori di lui veramente ce ne sono pochissimi, quindi sono contentissimo. Vediamo, teniamo monitorata questa operazione, vediamo se effettivamente si concluderà, e anche le cifre, perché se sono 40 milioni, chiaro, è un colpo oneroso, però li vale tutti. Assolutamente li vale tutti, e potrebbe essere un'occasione anche perché appunto il Real ha bisogno magari di fare qualche gestione. Per loro non è una prima scelta, perché comunque è chiuso da dei mostri sacri, perché hanno Marcelo a sinistra, hanno anche, mi ricordo più come si chiama, sempre a sinistra, adesso mi sfugge il nome, francese che giocava al Lione qualche anno fa, oddio, una gaffa incredibile però mi dimentico il nome, e poi a destra c'è Carvajal, quindi anche lui è un giocatore importante, hanno comunque vari ricambi, quindi ci sta che possano accettare di cederlo per fare una plusvalenza, e noi andiamo a cogliere questa opportunità al volo direi, come ha fatto, ahimè, ahimè, il Milan un anno fa col discorso a Teo Hernandez, perché anche lì loro hanno avuto veramente una botta di fortuna pazzesca, hanno preso questo giocatore che secondo me era da prendere assolutamente, ovviamente valeva, lo seguivo, anche lui lo seguo da un po' di tempo, mi piaceva un sacco, e quando ho visto la cifra per cui l'hanno acquistato, sono rimasto veramente basito, ho detto, caspita, ma ci siamo lasciati sfuggire, è un'occasione pazzesca, a Kimi è un'altra situazione così, è un'altra occasione pazzesca, chiaramente ha una cifra superiore a quella di Teo Hernandez per quanto riguarda il Milan, ma è anche un giocatore ancora migliore, ancora più completo, non vedo l'ora di saperne di più e non vedo l'ora che possa calcare la fascia e farci vedere cos'è un esterno completo dopo la parentesi Maicon e Cancelo, adesso toccherà da Kimi farci sognare su quella fascia, ci spero tantissimo, spero che non sia un'illusione e spero che effettivamente si vada in fondo a questo tipo di trattativa. Ragazzi, vi saluto, spero a domani di rivederci con un video proprio dedicato a lui e dipende tutto dal vostro interesse per quanto riguarda questo tipo di contenuto e così vediamo qualche azione assieme, la commentiamo, vediamo un po' le prodezze di questo fantastico terzino. Ciao a tutti e forza Inter!